Musica Cominciamo a scaldarsi Si scaldiamo subito saltando Va bene? Visto che è tardi Su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuo Su, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ancora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, davanti Chiudi qui, chiudo pettorali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1 Indietro le braccia Su Dietro, dietro 2, 3, 4, 5, 6, 7, e ora applaudo Sempre dietro Applaudo, applaudo Applaudo 2, 3, 4, get ready Pronti per il Tabata 3, 2, 1 Facciamo un jumping jacks E 1 E 1 E 1 E 1 L'avevamo già fatto, mi era piaciuto tanto 20 secondi Qui Su E Su Qui 3, 2, 1 Rest Faccio finta di saltare la corda Già che ci siamo Per il recupero 3, 2, 1 Vado All All Centro All Qui E Centro 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 Qui Salto con Da Salto, salto Salto Vado O Su E Qui Su E Su 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 Salto Faccio finta di saltare la corda 8 8 volte 8 volte 3, 2, 1 E vado 1 Su E Su Qui Su 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 3, 2, 1 Rest Salto Salto 3, 2, 1 Salto Salto 3, 2, 1 Work Vado Oh La Laura è avanti Mi ha anticipato Su 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 3, 2, 1 Rest Salto Quanto siamo? 3, 2, 1 Work Su E Magari oggi sciolgo Con le braccia Muoviamole tanto Che o si inceppa Definitivamente 3, 2, 1 Rest Qui 3, 2, 1 Work Vado So Qui E' bello perché non devo contare Conta la signorina Ma si che conta Senti Complete Allora continuiamo A saltare la corda E cosa andiamo a fare Adesso Un altro Oggi saltiamo Saltiamo e basta Che dite? Tanto Sarà mica difficile Sul trampolino E' una passeggiata Allora O 2 Squat O 2 Squat O 2 Squat Ok? D'accordo? E' faticoso? Ma no Dite che è faticoso? Ma no E' faticoso E' tanto salto Che così lavoro anche con le braccia Continuo 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 Quindi due salti piccoli E uno squat Get ready Get ready Ci siamo Pronti Pronti 3 2 1 Work O 2 2 O 2 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 3 2 1 Resto Sento da una parte e l'altra Saltello Saltello Continuo 3 2 1 Vado O V Giu E Qui Giu 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 3 2 1 Resto E stiamo a 2 Ne mancano solo 6 3 2 1 Work Vai O 2 E Giù Qui Giù 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 2 1 Resto E E Salto Da una parte e l'altra 3 3 2 1 Work O 2 Giù Qui 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 Giù 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 2 1 Resto Up 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 Dondolo Dondolo da una parte e l'altra 3 2 1 2 Vado 1 2 E Giù Qui Qui Giù Giù 3 2 1 Resto Da una parte e l'altra 3 2 1 2 Ancora 1 2 Giù 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 Siede piatto Piatto Giù Giù 3 2 1 Resto Forse ne manca uno Forse Forse due 3 2 1 Vado 1 2 Giù 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 3 2 1 Resto No Ho sbagliato Allora il prossimo è l'ultimo 1 Work Vado 1 2 E E E E 2 3 4 5 6 3 2 1 Completo Tableta timer Resto D'accordo D'accordo Come va? Siamo scaldate Vero? Abbiamo anche recuperato quei 4 minuti di ritardo Ora Faremo Step jump Ok E' un piede davanti all'altro In questo modo Ok Solo così Però è divertentissimo Continuo a saltare Non mi fermo Mi ballano gli addominali Mi ballano gli addominali Qui invece di migliorare Mi peggiora Non so perché 3 2 1 Vado Vado Ora non è che i miei muscoli possono capire che tra qualche mese è il mio compleanno eh E quindi più si avvicina la data e più peggiorano 3 2 1 Resto Per sinistra Vado Vado Come va? 3 2 1 Work Vado Work Allora Non è che il corpo Mi raccomando voi sempre al centro Resto di sinistra 3, 2, 1, work Avanti e dietro Qui 3, 2, 1 Sempre a destra e sinistra Qui 3, 2, 1, work Ancora work Un piede avanti e un piede indietro 3, 2, 1, work 3, 2, 1, rest Resto di sinistra 3, 2, 1, work 3, 2, 1, rest E sempre a destra e sinistra 3, 2, 1, work Ci siamo quasi credo Laura Le mie segretarie Che non funzionano più Non sono più le segretarie di una volta 3, 2, 1, work Complete Come va? Dopo Salto e lato Perché così Con una gamba Faltelliamo E con l'altra Facciamo gluteo Felici È difficile? No Una stupidata Intanto continuo a saltellare Saltello Saltello La Valentina vuole saltellare così Va bene Get ready Get ready Pronti Pronti 3, 2, 1, work Fai Su 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 Difficile? No Troviamo l'altra parte 3, 2, 1, work Ma no che non è difficile Su Su Qui 3, 2, 1, rest Su Intanto continuo a saltellare Perché oggi Non ci fermiamo mai Su E Su Poi da una parte Esce meglio Però pazienza Cosa ci vogliamo fare? Cambio Mi preparo 3, 2, 1, work E vado Su Su Qui Qui E Su 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 3, 2, 1, rest Salto 3, 2, 1, work Va Su 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 E Tra l'altro quando si alterna così è facile tenere il conto 3, 3, 2, 1, work Così non ci inganna la signorina Tabata So So Lato So 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 E Lato So So Qui So 3, 2, 1, rest Settimo 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 3, 2, 1, work Vado Settimo 3, 2, 1, work L'ultimo. Fatica? No. Passo. Su. Su. E qui. Visto che avevo contato giusto questa volta. Continuo a saltellare. Come va? Ora i prossimi. 8, 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 9, 10. Salto, salto, salto. Non mi fermo. Ne facciamo prima 8, poi 4, poi 2, poi singoli. Ok? Avevo capito. Get ready. Vado. Chiudo. Apro. Chiudo. 3, 2, 1, rest. Stop. Ora 4 più 4. 3, 2, 1, qui. O, 2, 3, 4. O. E. 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 Chiudo. E. 3, 2, 2, 1, rest. Stop. E i prossimi. 2, 2, 2, 3, 2, 1. O. 2. Chiudo. E. Chiudo. 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 Chiudo 3, 2, 1, rest. Ora, riprendiamo 8, 4 e 2. 3, 2, 1, qui. Chiudo. Apro. Chiudo. 3, 2, 1, rest. Stop. Prossimi 4, 4, 4. 3, 2, 1, rest. Siamo. Vai. Chiudo. E. Chiudo. E. Chiudo. E. Chiudo, non ho fatto uno in più, fai niente. 3, 2, 1, rest. Prossimi 2, 2, 2. Sono disattenti, no? 3, 2, 1, work. 1, 2, e, 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 qui, qui. Stop, stop. E, e, qui, qui. E, e. Continuo. Qui. Qui. 3, 2, 1, rest. Stop. Gli ultimi 1, 1, 1, 3, 2, 1, work. Qui. 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 Giù. 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 Continuo. 3, 2, 1, complete. Complete. Come va? 10 minuti. Sempre saltando. Ormai. Così bruciamo calorie, bruciamo grassi. Bruciamo. Bruciamo tutto. Ora. Eini. Ok? Solo. Eini. Intanto possiamo fare. Eini. E poi abbassiamo le ginocchia. Salto, 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 salto. Non mi fermo. Non mi fermo, non mi fermo. Get ready. Pronti? 3, 2, 1, work. Alzo le ginocchia. Su, su, su. Su, su. Coordino le braccia. 3, 2, 1, rest. Su, 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 su. 3, 2, 1. Su, su, su. Passo, basso, basso, basso. Alza le ginocchia. Alza le ginocchia. Su, su. 3, 2, 1. Giù, giù. Dai che siamo già quasi, quasi a metà. 3, 2, 1, rest. E tre, questo è il quarto però. Su. Qui è il quarto. Il quarto siamo a metà, eh. Poi abbiamo finito. Su, su, non sento il male. 2, rest. 2, rest. Ne mancano solo 4. 3, 2, 1, su. Su, su. Il quinto. 3, 2, 1. Giù. Solo 3. Il tappetino alla fine non lo usiamo. Pazienza. Su. Pazienza. 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 Il tappetino alla fine non lo usiamo. Pazienza. Pazienza. 3, 2, 1, rest. Dai, dai, solo 2. 3, 2, 1, rest. Sì. 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 Abbiamo detto aerobica e aerobica. Dall'inizio alla fine. vero, Valentina. Vero, Valentina? 3, 2, 1. Tappetino alla fine non lo usiamo. Tappetino alla fine non lo usiamo. Tappetino alla fine non lo usiamo. solo uno. Se facciamo questo. Allora. Da qui. Apro, chiudo. Apro, chiudo. Allora. Chi non coordina, va bene così. Chi non coordina così. Chi non coordina così. Chi non coordina così. Ma figurati se il cervello non coordina. Il cervello è lì apposta per coordinare. Invece, normali. Qui. Qui. Get ready. Get ready. 3, 2, 1, work. Va. Ho la prima. Massi che viene da tutte e due. 3, 2, 1. Rest. E poi, non coordiniamo. Centro, centro. Qui. 3, 2, 1. Centro. Non ci spostiamo. E ora andiamo invece. Qui. Lì. Guardate la Laura. Che stile. Che grinta. 3, 2, 1. Rest. Centro. Qui. Centro. e solo centro. 3, 2, 1, work. Vado. Lato. Lato. Qui. Le. 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 Giù. Giù. Qui. Giù. Giù. 3, 2, 1, rest. Centro. Centro. 3, 2, 1, work. Lato. Qui. Le. 3, 2, 1, rest. Centro. Rimango qui. Peso il centro. 3, 2, 1, work. E ora lo sposto. Qui. Lato. 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 Come va? 3, 2, 1, rest. E centro. Siete diventate bravissime coordinatrici. 3, 2, 1, work. Vado. Lato. 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 Oh, ho sbagliato io 3, 2, 1 Mi stavo già rilassando io 3, 2, 1 Rest No 3, 2, 1 Magari questa è l'ultima E se non è l'ultima è la penultima Ma fino alla fine 3, 2, 1 Completo Pian pianino Diminuiamo il saltello Fino a trasformarlo in uno schiaccio, schiaccio, schiaccio E fino a fermarci Facciamo un bel respirone E Ne facciamo un altro E spuole tutto giù Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie.